Parte 24 E man mano che la stagione si inoltra, il caldo aumenta e le foglie assumono una tinta più cuba. Le susine si allungano in forma d'uovo, i peruzzi in forma di perla, le pesche mettono la peluria. Quel decrepito tralcio che campava abbarbicandosi ai gelsi e nutriva gli uccelli con gli acini streminziti, ecco che per virtù della loro scienza ha generato mille varietà d'uva, rossa e nera, verde e rosata, violetta e d'oro, ed ogni varietà ha il suo sapore particolare. E continuano a lavorare, selezionando e innestando, modificando, forzando la terra a produrre come piace a loro e le prime ad essere mature sono le ciliegie, un cento e mezzo alla libra, diamine come si fa a raccoglierle per così poco, ciliegie nere, ciliegie rosse, piene e zuccherose e gli uccelli ne beccano la metà e le vespe aronzano nei buchi fatti dagli uccelli e le pere diventano molle gialle, 5 dollari la tonnellata, 5 dollari per 40 cassette da 25 chili. Diamine, come si fa a far entrare nei 5 dollari la lavorazione del suolo, la potatura, la spruzzatura, la raccolta, l'imballo, il trasporto e la consegna alla fabbrica di frutta in conserva? È impossibile. L'uva, diamine, non conviene fare il vino, chi può comprarcelo, caro com'è. L'unica è vendemmiare senza scegliere i grappoli buoni e i mediocri e i guasti e metterli tutti insieme nel torchio. E i torchi schiacciano insieme i gambi, il marcio e il fango e nei tini fermentano muffa e acido formico. Aggiungete solfo e l'acido tannico e l'odore del fermento non è più il ricco odore del vino, ma l'odore della putrefazione corretto dai preparati chimici. Vedi questo orticello? L'anno venturo farà parte di una vasta tenuta, perché il debito avrà strangolato l'attuale proprietario. E il putridume si propaga in tutto lo stato, e l'acre odore di marcia stende una grande tristezza sul paese. Gli uomini che sanno innescare e fecondare il seme non sanno trovare il mezzo che permetta agli affamati di mangiare i prodotti della terra. Gli uomini che hanno creato frutti nuovi non sanno creare il sistema che permetta ai loro frutti di venire mangiati. Ciò che le radici della vita e gli alberi fruttiferi producono deve andare distrutto per consentire ai prezzi di mantenersi alti. E questa è la cosa più triste e amara di tutte. E l'odore della marcia appesta il paese. Si brucia il caffè per fornire combustibile ai piroscafi, si brucia il grano turco per riscaldamento, si gettano le patate nel fiume e si mettono le guardie per impedire ai poveri di riprescarle. Questi sono delitti che trascendono ogni denuncia. Queste sono tragedie cui il pianto non può rendere testimonianza e un fallimento che annulla le più belle conquiste dell'umanità. Ma i bimbi muoiono di pellagra perché da un'arancia il coltivatore non può trarre profitto e il coroner scrive sull'atto di morte morto per denutrizione perché conviene lasciar marcire la frutta. I poveri accorrono con le reti per pescare le patate nel fiume e le guardie li respingono. E gli occhi dei poveri riflettono con la tristezza della sconfitta un crescente furore. Nei cuori degli uomini maturano i frutti del furore e si avvicina l'epoca della vendemmia. Nel campeggio di Widpatch, una sera che lunghe nubi orizzontali nascondevano il sole al tramonto infiammando negli orli, i Joad, finito la cena, taciturni e preoccupati, indugiavano attorno al fornello. La mamma stessa non si decideva a cominciare a riporre le stoviglie. «Quì bisogna fare qualcosa», disse di un tratto, e indicando Winfield con un gesto che richiamò sul bambino gli sguardi di tutti, continuò. «Guardate che faccia! Non l'ho mai visto giallo così e ha il sonno agitato!» Ognuno riabbassò gli occhi a terra. «Polenta fretta», spiegò la mamma. «Un mese che siamo qui e solo Tom ha trovato lavoro, e soltanto per cinque giorni. Tutti gli altri avete avuto un bel cercare tutti i giorni senza trovare un bel niente. I soldi ormai sono finiti, e scoraggiati come siete avete persino paura di parlare. Ma è ora di decidersi. Rosatè è ormai vicina al suo tempo, e guardate che faccia! Un giorno di grasso e due di farina, ecco quel che mi rimane, e dieci patate in tutto. Stasera non vi lascio andare via finché non si è deciso qualcosa». Gli occhi di tutti continuavano a guardare in terra. Il babbo si puliva le unghie con la punta del temperino. Zio John tentava di strappare una scheggia di legno dalla cassetta su cui era seduto. Tom si pizzicava il labbro inferiore tirandoselo in avanti. Lasciò andare il labbro e disse in tono sommesso, «Si è sempre andato in cerca, mamma, anche a piedi, da quando si è finita la benzina. Guardato dappertutto, in tutte le case, anche quando si era sicuri di non trovare niente, è una cosa che butta a terra, sai?». La mamma rispose con vivacità, «Non avete il diritto di dichiararvi scoraggiati. La famiglia va a rotoli, non ne avete il diritto. Il babbo si spezionò le unghie raschiate. «Non c'è che una cosa da fare», disse. «Dobbiamo andarcene. È peccato perché è un bel posto, questo è si è tra brava gente e l'idea di dover tornare in una di quelle overwheel. Ma, sbottò la mamma, «Se sia da farlo, facciamolo. Prima cosa bisogna mangiare». Al intervenne. «Io ho un bidone di benzina nel camion, non l'ho detto a nessuno». Tom sorrise. «Questo ragazzaccio, qualche volta mostra di avere del buon senso. Ora siete qui», riprese la mamma severa, «e decidete qualche cosa. Io non voglio stare a vedere la famiglia morire di fame. Un giorno di grasso, ecco quel che ci rimane. E Rosatea ha bisogno di mangiare. Decidete». «Qui c'è l'acqua calda, i gabinetti», cominciò il babbo. «Mica possiamo mangiare i gabinetti», Tom disse. «Oggi uno mi ha detto che a Marysville cercano gente per la raccolta della frutta». «Allora perché non andiamo a Marysville?», domandò la mamma. «Ma», porbottò Tom, «prima bisogna vedere se è vero. Non ha voluto dirmi che paga danno», dice che non lo sapeva esattamente. «Si va a Marysville», dichiarò la mamma. «Non importa sapere quant'è la paga, si parte lo stesso». «È lontano», obiettò Tom. «Non abbiamo più quattrini per la benzina. Difficile che ce la facciamo fin laggiù. Te, mamma, dici che bisogna pensarci. Io hai un sacco di tempo che non faccio altro che pensare». Zio John disse. «Mi ha detto uno che vicino a Tulare fra poco cominciano a cogliere il cotone. Tulare non è molto lontano», mi ha detto quello. «Bene, qui bisogna andarcene subito. Non mi importa niente che questo è un bel posto». La mamma afferrò la secchia e si diresse verso la tettoia per prendere dell'acqua calda. «Mamma si fa cattiva», disse Tom. «È da un po' di tempo che me ne accorgo. Tra poco scoppia». «Se non altro», disse il babbo con sollievo, «ha messo le carte sulla tavola. La notte ormai non potevo più dormire, sempre lì a cervellarmi per trovare una via d'uscita. E ora, se non altro, la facciamo finita». La mamma tornò con la secchia piena d'acqua fumante. «Dunque», disse, «deciso qualcosa?» «Si discute», fece Tom. «Qui si è visto che non si trova niente. Se si parte per tulare, appena il cotone è pronto, noi saremo già sul posto. Io, per conto mio, mi piacerebbe trafficare nel cotone. Dici che il serbatoio è pieno, Al?» «Quasi. Dovrebbe bastare per portarci fin là». La mamma appoggiò un piatto sulla secchia. «Allora?» Domandò. Tom disse, «hai vinto te». «Si parte, credo». «Vero, babbo?» «Per forza, penso io», disse il babbo. La mamma gli scoccò un'occhiata. «Quando?» «Beh, inutile aspettare. Si potrebbe anche partire domattina». «Dobbiamo partire, domattina. Ti ho già detto quello che ci resta». «Calma, mamma, mica devi credere che io non voglio andare via di qui». La mamma, immergendo il piatto nella secchia, annunciò decisa. «Allora, domattina si parte». Il babbo sbruffò. «Sembra che i tempi sono cambiati», disse con sarcasmo. «Una volta era l'uomo a decidere quello che andava fatto. Adesso sembra che devono dirlo le donne. Sarebbe ora che i mariti pensassero alla frusta». La mamma posò su una cassetta il piatto scucciolante e disse sorridendo. «Sì, sì, prendi pure la frusta, ma finché non ci procurerai il pane e un posto per viverci, giuro che non avrai il fegato di usarla». Il babbo ghignò imbarazzato. «Belle cose da dire davanti ai bambini. Prontolò». «Tu pensa a mettergli bistecche nella pancia, ai bambini, prima di preoccuparti di quello che devono sentire o no». Il babbo si alzò, disgustato, e si allontanò, seguito da zio John. Senza smettere di lavare i piatti, la mamma li osservò allontanarsi e disse a Tom con l'accento di soddisfazione. «È fuori mondo, se l'è svignata perché sennò andava a finire che mi lasciava andare una sverla». Tom rise. «Lo provo chi apposta?» «Certo, preferisco la sua collera all'indolenza. Vedrai ora come si darà da fare». Al si alzò. «Vado a fare due passi», disse. «Faresti meglio a dare un'occhiata al camion», gli consigliò Tom. «È già in ordine. Se non lo è, l'avrai da fare con la mamma. Ti dico che è pronto». E Al si allontanò rapidamente. «Ho la fiacchite anch'io, mamma», disse Tom. «Perché non provi a farmi arrabbiare anche me?» «Te hai più giudizio, Tom. Con te non c'è bisogno di farti montare in bestia. Su te posso contare. Con gli altri è un'altra cosa. Te non ti lasci andare». Tom si senti punto sul vivo. «Credi? Mi piace poco. Preferirei andarmene a spasso come Al, montare in bestia come il babbo e ubriacarmi come il zio John». La mamma scosse la testa. «Non è vero, Tom. So che non è vero. L'avevo già capito fin da quando eri bambino. C'è della gente che resta sempre se stessa e nient'altro. Al è solo un bamboccio che ha le ragazze per la testa. Tu non sei mai stato così, Tom». «Come no?» «E lo sono ancora». «Non è vero». La mamma trasse le posate dalla secchia e le mise in cima alla pila dei piatti. «Rosatea, asciugalite e mettili via». Rosatea si alzò, leggermente ansante, con l'addome prominente. Si appresso pigra alla cassetta e prese uno dei piatti lavati. La mamma le domandò «Hai visto i bambini?» «Sono corsi dietro al babbo. Tu come ti senti?» «È molto che non bevo un po' di latte, come dovrei». «È vero, ci vuole pazienza. Non ne avevamo». «Se Connie non fosse andato via, a quest'ora avremmo la nostra casetta e lui potrebbe studiare tutto. E avrei anche il latte che mi ci vuole. E potevo avere un bel bambino. Ora mica viene su bene. Mi ci vorrebbe del latte». Mise una mano nella tasca del grembiale, ne trasse qualcosa e se le portò alla bocca. «Cosa stai ciucciando?» «Niente. Su, fammi vedere». «È niente, solo un pezzo di calcinaccio». «Calcinaccio». La mamma restò senza parole, ma solo un momento. Si sede su una cassetta. «Ti capisco, Rosatea, anch'io una volta che aspettavo uno di voi, ho mangiato un pezzo di carbone. Un pezzo intero, così avevo voglia. La nonna mi ha sgridata. Ma senti, Rosatea, non metterti in testa delle idee storte riguardo al bambino. Non hai neanche il diritto di pensarle quelle cose. Senza latte, senza marito. Se non era perché sei incinta», disse la mamma, «ti prenderei a schiaffi». Salzò, andò sotto la tenda e ne tornò fuori dopo mezzo minuto, andando a piantarsi davanti alla figlia. «Guarda cosa ho in mano. Erano gli orecchini d'oro. Te li do». Gli occhi di Rosatea luccicarono per un istante. Poi la ragazza distolse lo sguardo. «Non ho i buchi», mormorò. «Te li faccio io», decise la mamma. Scomparve sotto la tenda e rieparve subito con una scatoletta di cartone in mano. Infilò un ago, sdoppiò il filo e vi praticò una serie di nodi a breve intervallo l'uno dall'altro. Infilò un secondo ago e ripeté la stessa operazione al filo. Poi tagliò un sughero in due, pose uno dei pezzi di sughero dietro il lobo di un orecchio di Rosatea e spinse l'ago attraverso il lobo così che si conficasse nel sughero. Rosatea fece una smorfia. «Punge, fa male». «E niente, già finito. Ora l'altro». Ripeté l'operazione sull'altro orecchio. «Ecco fatto». Al camminava abbaldanzosamente verso la pista da ballo. Passando davanti ad una tenda, fischiarellò poche note di una rietta di richiamo e proseguì verso il reticolato di cinta. Si sedette sull'erba in attesa, si grattò le gambe e si mise a contemplare il cielo della sera. Ad occidente le nuvole, spentosi il rosso degli orli, erano delle masse scure. Di lì a poco vide venire la biondina. Graziosa da lineamenti decisi. Sedette anch'ella sull'erba vicino a lui e stettero senza parlare. Egli le cinse la vita con un braccio e con le dita le carezzò il fianco. «No, mi fai il solletico», disse lei. «Domani si parte», annunciò Al. La ragazza si volse verso di lui, allarmata. «Domani? Dove?» «Al nord». «E allora non ci sposiamo?» «Certo che ci sposiamo, ma non adesso. Hai detto che ci sposavamo presto?» «Presto, sì, ma il presto non è ancora venuto». «Hai promesso?» E siccome le dita non smettevano di solleticarla, si scostò. «Va via, hai detto che mi sposavi». E lo ripeto. «Ma te ne vai?» «Ma cos'è che hai? Mica sei incinta, per caso?» «No», ha la risa. «Ho sprecato il tempo, vero?» Ella protese il mento, petulante, scattò in piedi. «Vattene via, Al-Johad. Non ti voglio più vedere. Non voglio più saperne di te». «No, e cos'è successo?» «Si crede che io gli corra dietro. Stai fresco. Conosco un mucchio di giovanotti più simpatici di te. Ma senti, non sento niente. Non voglio più saperne di te». Al avanzò un braccio, la guantò per la caviglia e la fece cadere, accogliendola tra le braccia prima che toccasse terra. Ella coricò sulla schiena, le posò una mano sulla bocca furente. Ella tentò di mordergliela, ma lui si limitò a sollevare la palma senza lasciare la presa e con l'altro braccio le inchiodò le spalle a terra. Ella non tardò a calmarsi e l'attimo seguente si dibattevano nell'erba asciutta, tra risatine soffocate. «Vedrai che saremo presto di ritorno», disse Al, «e con le tasche piene di quattrini. Ti porto a Hollywood a divertirti». Era sopra di lei, distesa sulla schiena, e vide nei suoi occhi riflesse con le stelle anche le nuvole nere. «Faremo il viaggio in ferrovia», le promise. «E quando, credi?» «Chissà, fra un mesetto», assicurò Al. La notte calò sugli uomini accoccolati davanti all'ufficio dell'amministrazione. Erano tutti capi famiglia che meditavano sul futuro. L'amministratore, nel suo abito bianco, un poco sfilacciato ma sempre pulito, si appoggiava alla ringhiera del portico d'ingresso. Aveva l'aria stanca. Hudson, notandolo, gli disse, «Faresti bene ad andare a dormire?» «Credo anch'io, ho dovuto fare da levatrice la notte scorsa, al numero tre». Il babbo disse, «Noi partiamo domattina». «Sì, e dove andate?» Pensavamo di andare un po' a nord per vedere di arrivare in tempo per il cotone. Qui non si è trovato niente, non si ha più da mangiare. «Siete sicuri di trovarne lassù?» chiese Austin. «No, ma siamo sicuri di non trovarne qui». «Fra poco ci sarà», disse Houston. «Noi restiamo. Ma noi non possiamo aspettare. Ci rincresce andar via, ma si deve pur mangiare. Si stava così bene, tutta brava gente, si faceva il bagno tutti i giorni. Mai stato tanto pulito in vita mia. Strano, però. Quando facevo, se no, un bagno alla settimana non puzzavo mai. Adesso, se salto un giorno, puzzo. Come si spiega?» «Prima non sentivate il puzzo perché c'eravate abituato», disse l'amministratore. «Sarà. Mi piacerebbe restare qui». L'amministratore si portò le palme alle tempie. «Mi sa che stanotte ne nasce un altro», disse. «Noi si avrà tra un po' comparto in famiglia», disse il babbo. «Sarebbe stato bello poterlo festeggiare qui». Tom era seduto con Ethan e con Jules, il meticcio, sull'orlo della pista da ballo, ciondolando le gambe. «Ho un pacchetto di tabacco», disse Jules. «Chi vuol farsi una sigaretta?» «Accetto volentieri», disse Tom. «Non fumo da un'eternità». Si arrotolò la sigaretta con molta cura, per non perdere un filo di tabacco. «Sicuro», disse Ethan. «Ci rincresce che partite. Brava gente, la vostra famiglia». Tom si accese la sigaretta. Era un pezzo che ci pensavo, se solo potessimo stabilirci in un posto o l'altro. Jules si riprese il pacchetto di tabacco. «Cià, amica bello, io ho una bambina. Speravo, venendo qui, di poterla mandare a scuola, ma non si è mai sicuro di restare in un posto. Non si fa in tempo ad arrivare che già bisogna smammare». «Purché non ci tocchi di finire in qualche altra Overville», disse Tom. «Ho avuto davvero paura laggiù». «Ve l'hanno date, gli sbirri?» «Avevo paura che ammazzavano qualcuno», disse Tom. «Ci siamo fermati solo poche ore, ma sono stato nervoso tutto il tempo. Uno sbirro ha arrestato un mio amico, solo perché aveva parlato senza essere interrogato». «Mai stato in un scioparo?» domandò Ethan. «No, io sì. E da allora ho riflettuto parecchio. Perché non vengono anche qui i poliziotti a far casino come fanno in tutti gli altri campeggi. Credete che sia solo perché quello metto dell'amministrazione non le lascia entrare?» «No, signore. E perché allora?» domandò Jules. «Non vengono perché hanno FIFA. Sanno che siamo tutti uniti e prima di darci noia ci pensano due volte. Con pochi uomini isolati possono fare i prepotenti, ma contro duecento uomini uniti no». «Già», disse Jules, «bisognerebbe tutti unirsi in sindacati. Ma allora ci vogliono dei capi». «Beh, la polizia schiaffa dentro questi capi e addio sindacati». «Son cose che non si possono neanche discutere», disse Ethan. «Troppo complicate, incomprensibili. Uno che ha una pariglia di cavalli deve pur nutrirla anche se non la fa lavorare. Ma se uno ha degli uomini che lavorano per lui se ne infischia e le tratta peggio di schiavi. Segno che i cavalli sono più preziosi degli uomini. Io non lo capisco». «Neanche io lo capisco», disse Jules. «Così non ci voglio neanche pensare. Io, per esempio, questa bambina, come ho detto, e sapete com'è bellina, le han persino dato il premio di bellezza il mese scorso. Bene, sapete cosa le sta succedendo? Sta diventando magra. «E io non posso farci niente. È così bellina. Un giorno o l'altro va a finire che non resisto più. E allora...» «Cosa vuoi fare?», disse Ethan. «Rubare per finire in galera? Ammazzare qualcuno per finire sulla forca? Non lo so, non lo so. Ed è per questo che a pensarci divento matto. Per me, disse Tom, quel che mi rincresce di più è di perdere queste feste da ballo. Mai visto feste così belle. Ci si divertiva da matti. Beh, credo che vado a dormire. Salute. Spero di rivedervi da qualche parte. Si strinsero le mani. «Ci rivedremo, certo», disse Jules. «Beh, arrivederci». E Tom si allontanò nell'oscurità. Nell'oscurità della tenda, Ruth e Winfield stavano coricati sotto la coperta vicino alla mamma. Ruth bisbigliò. «Mamma, che c'è? Non dormi ancora?» «Mamma, ci sarà il crocchè nel posto dove andiamo?» «Non so, ora dormi. Bisogna alzarci presto. Io sarei più contento di restare qui dove siamo, sicuri che c'è. Zitta!» «Mamma, oggi Winfield ha picchiato un bambino. Ha fatto male. Gliel'ho detto anch'io, ma gli ha dato un pugno sul naso e un mondo boia avessi visto quanto sangue perdeva». Sotto la tettoia, il babbo e zio John sedevano in due gabinetti adiacenti. «Meglio non sbrigarci se deve essere l'ultima», disse il babbo. «Ti ricordi il primo giorno lo spavento che hanno preso i bambini quando hanno tirato la catena? È stata una sorpresa anche per me», disse zio John. Si tirò su i pantaloni per coprirsi le ginocchia. «Mi sento di diventare cattivo, sai? Sto per peccare di nuovo». «Senza soldi non puoi», disse il babbo. «Siedi lì e non pensare ad altro. Occorrono almeno due dollari per peccare e non li abbiamo tra tutti e due». Comunque l'intenzione è già peccato. Era ancora notte quando la mamma dette la sveglia. «Alzarsi! Si parte! È quasi giorno!» Aprì il cicolante sportello della lanterna e accese lo stoppino. «Sveglia tutti quanti!» Coperte e cuscini presero a muoversi e occhi sonnacchiosi guastarono risentiti la fiamma della lanterna. La mamma infilò il vestito sulla camicia da notte. «Caffè non ce n'è! C'è rimasta qualche galletta che mangeremo per strada! Su, vestirsi e caricare! E fate piano per non svegliare gli altri!» Passò qualche momento prima che la famiglia fosse completamente sveglia. «La mamma ammonì i bambini! Non vi allontanate voi due!» La famiglia fu presto vestita. Gli uomini smontarono il telone e caricarono l'autocarro, sempre tra gli incitamenti della mamma. Sulla pila delle masserizie sistemarono i materassi e assicurarono il telone ai montanti. «Ecco, mamma, si è pronti!» disse Tom. La mamma distribuì le gallette. «Ecco qui, prendetene una per uno, non c'è altro!» Ruth e Winfield affraffarono la loro e si arrampicarono sul carico. Si cacciarono sotto una coperta e si addormentarono di nuovo, tenendo le gallette in mano. Tom prese posto al volante e avviò la messa in moto. Il motorino ronzò un momento e si fermò. «Maledizione, Al!» imprecò. «Hai lasciato scaricare la batteria!» Al reagì vivamente. «Come diavolo potevo tenerla carica senza benzina!» Tom ridacchiò. «Io non so niente, ma è certo che è colpa tua. Dunque prendi la manovella e scoba. Ti dico che non è colpa mia, ti dico!» Tom si chinò e prese la manovella. «Allora la colpa è mia!» disse con sarcasmo. «Dammi quella manovella!» replicò Al strappandogli di mano l'arnese. «E togli il contatto! Mica voglio rimetterci in braccio! Dovete dare parecchi giri!» Il motore attaccò, starnotì e ruggì. Tom ridette il contatto e ridussi il gas. La mamma prese posto vicino a lui. «Avremmo sbagliato tutti quanti!» commentò. «Si riaddormenteranno!» Al si accomodò alla destra della mamma, dicendo «Il babbo e il zio John sono saliti dietro per dormire!» Tom si avviò all'uscita. Il custode uscì dal suo casotto e fece luce con la lampadina toscabile. «Un momento!» disse. «Cosa volete?» «Partite definitivamente?» «Sì!» «Allora devo cancellarvi!» «Cancellate!» «Da che parte andate?» «Al nord!» «Beh, buona fortuna!» «Altrettanto a voi!» «Rivederci!» Tom prese la cunetta con cautela e saliataggio sulla strada. Voltò nella direzione d'andare erano venuti. Oltrepassò Whitpatch e, sboccando sulla 99, prese a nord verso Buckersfield. Quando ne raggiunse la periferia, alveggiava. Tom disse. «Dappertutto dove guardi c'è una trattoria. Vedi quella, aperta tutta la notte, capace di esserci dieci bidoni di caffè pronto e fumante lì dentro. Oh, piantala!» disse Al. Tom ghignò e gli dette una sbirciatina. «Al, è vero che ti eri fatta un'amorosa? Che te ne frega a te!» «È cattivo stamattina, vero mamma? Non è una compagnia allegra?» Al disse irritato. «Appena possa mi metto per conto mio. È molto più facile da solo che con la famiglia sulle spalle. Tom arriva a te. Tra nove mesi ne avrai una tutta per te. T'ho visto, sei ronzare attorno a quella bionda. Sei matto. Mi trovo un posto in un garage e mangio in trattoria. Con una moglie e un bambino tra nove mesi. Oh, smettetela!» Disse la mamma. «Colpa mia!» Disse Tom. «Ho cominciato io, ma scherzavo. Scusa, Al. Non credevo che fossi cotto così. Cotto un corno! No, tanto meglio. L'autocarro entrò in città. Ma guarda quanti caffè! Saran centinaia!» La mamma disse. «Tom, io ho un dollaro messo da parte. Hai tanta voglia di caffè da sentirti di spenderlo?» «Ma no, mamma. Scherzavo!» «E allora piantala con questi caffè!» Borbottò Al. «Tom, stette zitto per qualche tempo. Eccola la strada che abbiamo fatto quella notte!» Osservò poi. «Ah, non farmici pensare!» Disse la mamma. «È stata una brutta notte!» «Me l'ero vista brutta anch'io!» Disse Tom. Il sole si levò sulla loro destra e gettò l'ombra dell'autocarro sulla sinistra. Passarono davanti alla ricostruita Overville. «Eccola ripopolata!» Disse Tom. «Sembra che non sia successo niente!» Al smise il broncio. «C'è delle famiglie, mi han detto, che hanno dovuto smammare per via degli incendi quindici, venti volte. Non fanno che nascondersi nei boschi e poi tornano a fare su un'altra capanna. Talmente abituati che non si arrabbiano neanche più, lasciano passare la bufera e poi riprendono la vita di prima. «Proprio una bufera d'inferno per me quella notte!» Commentò Tom. L'autocarro procedeva rapido sulla grande strada e i tiepidi raggi del sole li fecero rapprividire. «Comincia a fare freschino al mattino!» Disse Tom. «Speriamo di fare qualche soldo prima dell'inverno!» «Non è molto divertente sotto la penda all'inverno!» La mamma sospirò ma alzò la testa. Tom disse. «Per quest'inverno dobbiamo avere una casa! Assolutamente necessario! Ruth sta bene, ma un Winfield è meno robusto. Dobbiamo avere una casa prima che vengano le piogge. Mi hanno detto che è qui di Luvia. La troveremo, mamma. Sta tranquilla. La casa l'avrai. Mi basta un tetto e un pavimento perché i bambini non restino proprio nel fango. Si cercherà, mamma. Non voglio lamentarmi, ma alle volte mi prende la paura e perdo il mio coraggio. Non t'ho mai visto perderlo. Mi è già capitato, di notte. Lo so io. Udirono un sibilo acuto proveniente dalle ruote anteriori. Tom tenne stretto il volante e rovesciò la leva del freno. Il veicolo si arrestò con un sobbalzo. Stavolta è andata, sospirò Tom appoggiandosi allo schienale. Al si era già slanciato fuori e corse a vedere il pneumatico destro. Un grosso chiodo, disse. Top ce n'è? Top sì, ma Mastice no. Tom si volse alla mamma con un mesto sorriso. Non avresti dovuto denunciare quel tuo dollaro, disse. Avremmo ugualmente rimediato in qualche modo. Salto giù e si avvicinò alla gomma a terra. Al gli indicò il chiodo che sporgeva dal copertone. Se ce n'è uno in tutto il paese, disse Tom, è certo che ce lo prendiamo noi. È grave? Domandò la mamma. No, ma dobbiamo rimediare. La famiglia si sgretolò giù dal carico. Foratura? Domandò il babbo. E vedendo la gomma chiuse la bocca. Tom fece spostare la mamma per prendere sotto il sedile il barattolo delle toppe. Trovò anche un tubetto di Mastice e lo schiaffò tra le dita. È quasi secco, disse. Ma forse basta. Animo, Al blocca le posteriori e tira fuori il cricco. Tom e Al lavoravano bene insieme. Misero due grossi pietre dietro le ruote. Inserirono il cricco sotto l'asse anteriore e tolsero il peso della gomma a terra. Levarono il copertone. Trovarono il foro nella camera d'aria. Intinsero uno straccio nel serbatoio e lavarono i contorni del buco della gomma. E mentre Al teniva la camera d'aria ben distesa sul suo ginocchio Tom ruppe in due il tubetto del Mastice e spalmò la pasta delicatamente sulla gomma servendosi del suo temperino. Lasciamola seccare mentre taglio una toppa. La tagliò con cura smussando negli orli per quanto possibile e la posò sul buco mentre Al tendeva con le mani la camera d'aria. E quando la toppa fu a posto Al posò la camera d'aria sul perdellino e Tom saldò la toppa a piccoli colpi di martello. Ecco fatto. Credo che tiene. Montala su e pompiamo a turno. Mamma sta a vedere che t'ho salvato il dollaro. Dovremmo averne almeno una di ricambio borbuttava Al montando la camera d'aria sul cerchione. Il sole si avvicinava allo zenith e l'ombra dell'autocarro si ritirava sotto le ruote. Siamo quasi a Pixley disse Al. Ho visto un cartello poco fa. Attraversarono il paesetto e voltarono a destra per una strada secondaria. Chissà se avremo difficoltà a trovare il posto disse Tom. La mamma disse quel signore ha detto il ranch di Hooper. Ha detto che chiunque ci sa dire dov'è. Spero che ci sarà una bottega nelle vicerianze. Mi faranno credito con quattro uomini che lavorano. Potrei prepararvi proprio una buona cena se mi fanno credito. Zuppa di bollito magari. E caffè disse Tom. E magari un pacchetto di tabacco. E' un secolo che non fumo. Poco dopo trovarono la strada bloccata. Sulla destra erano fermi alcuni veicoli simili a loro e sulla sinistra parecchie motociclette bianche in fila. Qualche incidente disse Tom. Ma quando raggiunsero la coda dei veicoli fermi un agente della polizia di stato in cinturone e stivaloni uscì dalla fila e fece loro segno di fermare. Si avvicinò e domandò ad Al con tono amichevole dove andate? Al disse un signore ci ha detto che c'è da accogliere pesche da queste parti. Così siete venuti in cerca di lavoro. Avete indovinato disse Tom. Proprio così. Aspettate qui un momento. Si trasportò sul lato della strada e gridò in avanti ne è arrivato un altro fanno sei potete cominciare a far avvenzare questo trappello. Tom lo chiamò ehi che è successo? La gente si riavvicinò con comodo e rispose un po' di disordine non c'è da preoccuparsi seguite solo la colonna. La colonna si mosse con due motociclette in testa e due in coda. Tom disse preoccupato cosa sarà successo? Ci sarà la strada interrotta disse Al. Mica ci sarebbe bisogno di quattro poliziotti a farci da scorta no non mi piace proprio. Le motociclette in testa accelerarono l'andatura i vecchi veicoli incolonnati stentavano a mantenere il contatto. Al stesso faticava a non lasciarsi distanziare è tutta gente come noi disse Tom no non mi piace. D'un tratto le motociclette di testa stersarono fuori dalla strada e imboccarono l'ingresso inghiaiato di una tenuta privata sempre seguite dalla colonna dei veicoli. Sembrava che i motociclisti facessero rombare apposta i motori il più forte possibile. Tom vide nel fosso che costeggiava la strada forse un centinaio di uomini e donne schiamazzanti con voci e gesti minacciosi all'indirizzo dei sei veicoli in colonna. La colonna si inoltrò per un cancello che venne rinchiuso immediatamente. Le quattro motociclette fecero dietro fronte ripartirono nella direzione d'onde erano venute e appena si furono allontanate si poterono udire chiaramente le grida e gli schiamazzi della gente vista lungo il sentiero. Due uomini armati di fucile si presentarono alla testa della colonna avanti avanti cosa diavolo state aspettando avanti i sei veicoli ripresero la marcia imboccarono una curva e si trovarono di un tratto in un frutteto tutti peschi su un lato stavano in varie file che formavano un quadrato una cinquantina di casotti in legno ciascuno munito di un solo finestrino e lì vicino c'era un alto serbatoio per l'acqua e una bottega di derrate alimentari alle estremità di ciascuna fila stavano due uomini armati di fucile con una grossa stella d'argento appuntata sul petto i sei veicoli si fermarono due contabili si avvicinarono ai veicoli uno dopo l'altro cercate lavoro? Tom rispose certo ma che succede? non vi riguarda volete lavoro? certo nome? Joead quanti uomini? quattro donne? due bambini? due tutti in grado di lavorare? beh credo di sì bene casotto 63 paga 5 cents la cassetta ma le pesche ammaccate non contano andate pure potete cominciare subito ogni casotto era numerato 60 disse Tom deve essere questa fila 61 62 eccolo al fermò l'autocarro dinanzi alla porta la famiglia smontò e si guardò attorno sconcertata sopra giunsero due agenti scrutando ognuno in faccia nome? Joead sbottò Tom con impazienza ma insomma si può sapere che succede qui uno degli agenti stava scorrendo un lungo elenco di nomi non c'è mai visto queste facce vediamo la licenza niente da dire dunque state attenti non vogliamo grane fate il vostro lavoro non occupatevi di ciò che non mi riguarda e andrà tutto bene fecero dietro fronte e si allontanarono e in fondo alla fila si misero a sedere su due cassette in modo da sorvegliare lo stretto passaggio tra i casotti Tom li aveva accompagnati con lo sguardo certo che ci fanno sentire come a casa nostra disse la mamma aprì la porta ed entrò nel casotto sul nudo e sudicio pavimento non c'era che la stufa una stufetta di ferro posata su quattro mattoni col tubo che usciva dal tetto c'era puzzo di sudore di lubrificante Rosatea disse dobbiamo venire a stare qui dentro la mamma non rispose subito ma poi si decise perché no è passabile una volta che abbiamo fatto pulizia meglio la tenda disse Rosatea ma quando piove disse la mamma è meglio il pavimento di legno si voltò e ordinò meglio scaricare gli uomini scaricarono senza parlare erano sconcertati e un po' impauriti tra i casotti nessun rumore passò una donna a testa bassa con la sottana sfilacciata agli urli e non li guardò nemmeno Ruth e Winfield erano come paralizzati non corsero attorno per ispezionare il luogo restarono appiccicati alla famiglia contentandosi di lanciare sguardi desolati su e giù lungo la corsia tra i casotti Winfield trovato un pezzo di fil di ferro lo torceva tra le dita finché lo ruppe e il pezzetto rimatto lì in mano diede la forma di una manovella che continuava a rigirarsi tra le dita Tom e il babbo stavano trasportando i materassi quando arrivò un impiegato con gli occhiali a lenti molto convesse sguardo da miope ma penetrante si sporse in avanti per parlare a Tom devo registrarvi disse quanti siete a lavorare? quattro uomini disse Tom lavoro duro? cogliere pesche paga cinque cents la cassetta mica c'è per caso qualche ragione che impedisca ai bambini di aiutare? certo no se fanno bene la mamma stava in piedi sulla soglia appena sistemati aiuto anch'io solo voglio sapere una cosa non abbiamo niente da mangiare ci pagano subito? in denaro no ma in buoni che potete scontare in bottega allora sprighiamoci disse Tom stasera voglio mangiare un pezzo di carne dite un po' dove si ha da andare al lavoro? sto andando sul posto venite con me i quattro uomini lo accompagnarono lungo la polverosa corsia finché raggiunsero i peschi le strette foglioline cominciavano ad ingiallire i frutti pendevano dai rami come globi gialli e rossi tra gli alberi erano ammucchiate in colonne le cassette vuote i lavoranti formicolavano attorno riempiendo di pesche le secchie che portavano infilate in un braccio vuotando le secchie nelle cassette e portando le cassette al deposito dove le cassette si ammucchiavano in attesa dei camion e dove stavano gli impiegati incaricati di controllare lo stato dei frutti e registrare i nomi dei raccoglitori grazie a tutti